L'Italia accoglie 60 palestinesi, 18 bambini bisognosi di cure e i loro familiari. Un'alba carica di speranza si è levata sul porto di La Spezia, quando la nave Vulcano della Marina Militare ha fatto il suo ingresso anticipato, trasportando con sé un carico prezioso di umanità. 60 profughi palestinesi hanno varcato quei confini marittimi, tra di loro 18 bambini, vulnerabili e bisognosi di cure specializzate insieme ai loro devoti accompagnatori. Nonostante le ferite, alcuni gravi, dei piccoli pazienti, la loro stabilità è stata garantita, e nessuno è stato lasciato indietro nell'incertezza. Sulla banchina, l'utilizzo di un Ambulift ha facilitato lo sbarco, un gesto di solidarietà che parla più forte di qualsiasi parola. Fin dalle prime luci dell'alba, il ministro Tajani ha accolto l'equipaggio con parole di gratitudine e ammirazione, riconoscendo il valore umano dietro ogni gesto compiuto. La macchina dell'accoglienza si è immediatamente attivata, con la Croce Rossa in prima linea, guidando una squadra di 45 volontari pronti a offrire conforto e assistenza. Grazie al coordinamento impeccabile con le autorità competenti, i rifugiati sono stati prontamente trasferiti presso le strutture sanitarie, in un'opera di solidarietà senza confini. I 18 bambini, destinatari di cure e terapie speciali, sono stati accolti in ambulanze che li condurranno verso speranze di guarigione presso gli ospedali di Bologna, Milano, Genova e Firenze. La nave Vulcano, simbolo di impegno e dedizione, ha trascorso mesi nel porto di Al-Aris, curando e proteggendo i piccoli palestinesi vittime delle atrocità della guerra. Il dono della vita, incarnato dalla nascita di Illinitalia, testimonia la gratitudine di chi ha trovato riparo e cure sulle nostre coste. Le parole di Tajani risuonano come un inno alla solidarietà e alla compassione, riconoscendo l'Italia come faro di speranza in un mare di conflitti. Grazie al sacrificio dei nostri uomini e donne in uniforme, il sorriso torna sul volto degli innocenti, riscrivendo pagine di storia con coraggio e umanità. Crossetto, con voce ferma e cuore grato, accoglie i nuovi arrivati con un caloroso benvenuto, riconoscendo l'eccezionale impegno del personale militare e medico. La promessa di continuità nell'assistenza, con nuovi trasferimenti in arrivo, è un segno tangibile dell'impegno italiano nell'alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite dalla guerra. Ad ogni membro dell'equipaggio, ad ogni volontario, va il riconoscimento di aver scritto pagine di umanità e speranza, dimostrando che l'Italia è pronta a essere, ancora una volta, faro di luce in tempi bui.